Quindi vi ringrazio per la partecipazione. Un minimo che la Croce Rossa poteva fare è dare una benemerenza, un riconoscimento a queste persone che in questo periodo, nonostante grosse difficoltà economiche, parlo per le attività che ci sono nel territorio, hanno dato un grosso sostegno alla Croce Rossa. Ci hanno fatto sentire un pochettino meno in soggezione perché questo coronavirus ha messo a dura prova anche noi che dovremmo farlo senza nessun problema. Quanti volontari sono scesi in campo in questo periodo? Abbiamo fatto una scelta. Gli più anziani li abbiamo lasciati a casa per motivi della pandemia. I più giovani che hanno dato la disponibilità sono stati tantissimi, parliamo di 15-20 volontari e che per noi è tanto, e i 12 dipendenti che hanno lavorato sempre. Quindi un numero abbastanza elevato per questo momento qui. Un lavoro che continua in questa fase perché il nazionale sta inviando ancora parecchio materiale tipo buone spese, mascherine, farmaci, distribuzione di pigiami per i bambini. E noi siamo in stretto contatto con le tre amministrazioni, Mondolfo, San Costanza e Monteporzio. I servizi sociali ci danno la possibilità di avere nominativi di persone bisognose e noi distribuiamo. Sono stati mesi drammatici, ha raccontato il Presidente. Abbiamo superato tante situazioni come alluvioni e terremoti, ma questa pandemia ci ha messi a dura prova. Nella difficile battaglia contro il virus ogni contributo è stato fondamentale e ha avuto un valore enorme. Dal 10 marzo ad oggi la Croce Rossa ha eseguito 160 interventi per persone risultate positive al Covid-19, ha prestato oltre mille ore di servizio a disposizione del 118 e quasi 1100 ore per trasportare i cittadini nei vari ospedali delle Marche per un totale di 46 trasferimenti. A ringraziarli per il lavoro svolto è stato anche il Sindaco Nicola Barbieri. Ci siamo riscoperti più uniti che mai, ha detto il primo cittadino, abbiamo collaborato tra sindaci e c'è stato un grande senso di comunità. Ognuno ha fatto qualcosa per gli altri senza lasciare indietro nessuno. Ne usciamo più forti di prima. L'iniziativa importante è quella di questa mattina che è stata organizzata dalla Croce Rossa al Comitato di Marotta Mondolfo ed è un'opportunità anche per il nostro comune per ringraziare le associazioni di volontariato, quindi Protezione Civile, Croce Rossa, Caritas, ma tante associazioni di volontariato, ma anche i singoli privati che hanno fatto le donazioni, le forze dell'ordine, anche il personale degli uffici comunali. Davvero c'è stato un grande lavoro di squadra per superare queste emergenze ed era giusto ritrovarci qui appunto per ricordare quello che è stato un periodo difficile per tutti. Il Comitato è stato a servizio anche dei comuni di Monteporzio e San Costanzo. C'è stato un grande senso di fraternità, ha commentato Filippo Sorcinelli, e questa non ha avuto confine. Sono stati veramente fondamentali ed eccezionali. Veramente non saprei come avrei affrontato questa emergenza sanitaria senza l'affiancamento fraterno, devo dirlo, della Croce Rossa italiana a sezione di Marotta. Quindi ringrazio tutti i volontari che ci sono stati vicini, ringrazio il Presidente, il Cavalier Seri, che fa parte anche del nostro COC, che abbiamo aperto prontamente. E devo dire che sono intervenuti in molte situazioni i ragazzi della Croce Rossa di Marotta. Consegna dei buoni spesa, consegna delle mascherine e tante altre piccoli e grandi cose di supporto sia alle persone in isolamento volontario, sia alle persone in isolamento obbligatorio. Devo dire che questa collaborazione con la Croce Rossa l'abbiamo attivata fin da subito, fin dalle prime ore e quindi gli sono particolarmente grato oggi.